Vi siete mai chiesti cosa succede alle anime di coloro che si suicidano? Lo so, è una domanda che scuote profondamente, perché l'atto di togliersi la vita è una tragedia che lascia un segno indelebile tra i vivi e che ci spinge a domandarci con timore del destino di quell'anima. Ma se vi dicessi che non dobbiamo mai dare nulla per scontato, che l'equazione suicidio da nazione eterna, per quanto comprensibile, non è infallibile? Oggi vi racconterò una storia straordinaria che ha per protagonisti una donna distrutta dal dolore per il suicidio del marito e il curato d'Ars, Giovanni Maria Vianney, uno dei santi più amati della Chiesa Cattolica. Rimanete con me fino alla fine per conoscere tutti i dettagli e ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle nostre pubblicazioni. E mi raccomando, non dimenticate il nostro impegno per le anime del Purgatorio. Come già sapete, il 2 novembre porteremo le vostre intenzioni al Santuario delle Anime Purganti di Notre Dame de Moligion. I nomi dei vostri cari saranno ricordati nelle sante messe che faremo celebrare per l'Ottavario dei Morti. Se non l'avete ancora fatto, c'è tempo fino al 29 ottobre per inserire le vostre intenzioni. Trovate il link in descrizione o nel primo commento in evidenza. Io sono Somaile Maniscalco, benvenuti su I Angeli sono con noi. La storia di oggi parla di una donna che si trovò a vivere una delle esperienze più dolorose che una persona possa provare. La morte improvvisa e tragica del marito che si tolse la vita gettandosi da un ponte. Per di più, lei era molto devota mentre lui era uno che non credeva. Potete capire perciò il tormento che avvolse questa povera signora. Il suicidio, infatti, oltre ad aprire una ferita profonda in chi resta, è spesso accompagnato da un enorme senso di colpa e da mille domande che tormentano. Questa donna, straziata dal dolore, era incapace di accettare la perdita. Il pensiero che suo marito, un uomo incredulo, potesse essersi dannato per sempre, la divorava. Come si può vivere con questo fardello? Tanto più che lei aveva provato ad avvicinarlo alla fede, ma tutto sembrava essere stato vano. In cerca di pace, sul consiglio dei medici, decise di mettersi in viaggio per distrarsi. Per puro caso, nella stessa carrozza del treno in cui trovava, c'era anche un uomo di Dio, l'abbate Ghilam, che stava andando ad Arse, dove un umile sacerdote, Giovanni Maria Vianney, stava guadagnandosi la fama di confessore intercessore potente. La povera donna in lutto, che durante il tragitto era stata sempre seduta vicino all'abbè Ghilam, ascoltando in silenzio i discorsi di meraviglia sul curato di quella cittadina, gli rivolse per la prima volta la parola, quando giunsero alla stazione di Villefranche, e gli disse «Signore, mi permettete di seguirvi fino ad Arse? Vengo là come andrei in un luogo qualsiasi. Viaggio perché ho bisogno di distrarmi». Il sacerdote si accordò subito ed accettò anche di farle da guida. Appena arrivati ad Arse, si trovarono di fronte a una scena straordinaria. Giovanni Maria Vianney, riconoscendo il dolore di quella signora, avanzò tra la folla, che nel frattempo si era inginocchiata, e senza che la donna avesse proferito parola, le disse «Egli è salvo». Immaginate lo stupore e la confusione di quella signora. Come poteva essere? Suo marito si era suicidato. Ma il santo curato ripetè con fermezza «Vi dico che Egli è salvo, si trova in purgatorio e si deve pregare per Lui». E le spiegò che nel breve istante, tra il salto nel vuoto e l'impatto con l'acqua, suo marito aveva avuto il tempo di fare un atto di contrizione, di pentirsi del suo gesto disperato. Ad ottenergli questa grazia era stata la Santa Vergine, grazie alle devozioni che la coppia aveva fatto insieme, seppur sporadicamente, durante il mese di maggio. Il santo disse «Quantunque irreligioso, qualche volta il vostro sposo si è unito alla vostra orazione, e questo gli ha meritato il perdono». Meraviglie delle meraviglie! Non è incredibile pensare che anche nelle circostanze più disperate ci sia spazio per la misericordia? E non è commovente vedere quale amore di madre ebbe Maria Santissima per quella singola anima? Eh, quanto è stupido allora rinunciare a una tale avvocata e protettrice, così compassionevole ma anche altrettanto potente. Questa storia ci mostra che nessun'anima è mai veramente perduta, se c'è la possibilità di un pentimento sincero anche nell'ultimo istante. Quella donna che era arrivata ad Arse disperata ne uscì trasformata. Il suo animo fu pacificato, sapendo che suo marito era salvo e che avrebbe potuto rivederlo in cielo. Però, badate bene, anche se tutto finì per il meglio, San Giovanni Maria Viennei fu chiaro, dicendo «si deve pregare per lui». Pregare per le anime del purgatorio è infatti un atto di carità e di misericordia, oltre che in dovere cristiano. Le nostre preghiere, specialmente quando sono unite al santo sacrificio eucaristico, possono accelerare il loro passaggio verso il Paradiso. Non dimenticatevi perciò che il 2 novembre porteremo le vostre intenzioni al Santuario delle Anime Purganti di Notre Dame de Moligion e che i nomi dei vostri cari saranno ricordati nelle sante messe che faremo celebrare per l'Ottavario dei Morti. Se non l'avete ancora fatto, avete tempo fino al 29 ottobre per inserire le vostre preghiere. Trovate il link in descrizione o nel primo commento in evidenza. A voi non costa nulla, ma per molte anime in attesa di raggiungere la beatitudine eterna significa tutto. Non perdete questa occasione per aiutare i vostri cari a trovare la pace eterna, ve ne saranno per sempre riconoscenti. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di condividerlo con i vostri amici, cosicché anche loro possano approfittare di questa opportunità. Come sempre chiedo e prometto preghiere, se il Signore vuole ci vediamo sabato. Che Dio vi benedica! Ciao! 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 Ciao!